Li mancava soltanto l'europeo a Fefe De Giorgi, l'ha vinto con l'Italia contro la Slovenia in finale. L'ha vinto con la semplicità di sempre, l'Italia del volley che rinasce dopo le Olimpiadi di Tokyo e che vince in Polonia l'europeo, alla sua firma, a il suo volto. Ha vinto Fefei sessantenne tra qualche giorno il 10 ottobre, nato a Squinsano ad oggi cittadino di Trepuzzi dove si è stabilito e il sindaco Taurino dopo la nomina commissario tecnico lo aveva voluto in comune per un riconoscimento ufficiale. E' cresciuto nel mondo della palla a volo tra la Visquinsano e i falchi di Ugento con cui nell'83 debuttò in Serie A1 da giocatore. Ha fatto parte della generazione di fenomeni, quelli che hanno vinto tutto con la maglia azzurra. Li chiamavano eroi dei tre mondi per aver vinto tre coppe del mondo di fila tra il 1990 e il 98 con il 94 nel mezzo. De Giorgi aveva vinto davvero tutto, prima da giocatore, poi lo ha fatto anche da allenatore. Aveva vinto persino in Polonia da tecnico, una terra che evidentemente li porta bene. Ha vinto tutto, gli scudetti con la lube da allenatore, quello con Modena da giocatore. De Giorgi è un vincente nato, l'ultima fatica, l'ultima impresa, quella contro la Slovenia. Sotto due volte, 1-0, poi 2-1, ma ribaltato al tie-break 15-11, trascinato da un gruppo fantastico che mette le basi per quello che sarà il futuro della palla a volo italiana. E in questo futuro De Giorgi, le cese di Squinsano, ma residente a Trepuzzi e cresciuto a Ugento, ha ancora il ruolo della generazione dei fenomeni, anzi del fenomeno.